Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono attiva anche su YouTube. Vi lascio il link nell'info box e vi avviso del fatto che lì carico dei video in i diti di case italiani. Quindi se avete voglia di vedere video nuovi e soprattutto video su case italiani, andate a fare un salto su Facebook. Detto questo, diamoci dentro col video. A volte, nel mondo del true crime, la verità si trova alla fine di un lungo cammino, durante il quale la speranza sfuma e poi tenta di ricompattarsi, attendendo una doverosa risposta. Il caso di oggi viene spesso citato come un esempio di quanto le tecnologie avanzate nel campo del DNA possano aiutare a risolvere i crimini anche dopo moltissimi anni. È la fine del 1989 e ci troviamo ad Acme, un piccolo villaggio situato nella contea di Whatcom, nello stato di Washington e quindi negli Stati Uniti. Qui abita la protagonista del caso di oggi, Amanda Teresa Stavik, detta Mandy, una ragazza di 18 anni. Mandy è nata il 16 aprile del 1971, suo padre si chiama Glenn, mentre sua madre si chiama Mary. La loro è una famiglia numerosa, infatti Mandy ha anche una sorella di nome Molly, quattro fratelli di nome Lee e Brent e un fratellastro di nome Spencer. Purtroppo, però, Mandy perde tragicamente due dei suoi fratelli. Il primo è Brent che muore nel 1975 quando Mandy ha solo quattro anni. Brent vede la sua triste fine durante una battuta di caccia. Viene ucciso dai colpi di un'arma da fuoco e il suo caso rimane tutt'oggi irrisolto. Poi anche Spencer, il fratellastro di Mandy, viene a mancare. La causa è un incidente mortale avvenuto in barca che si verifica quando ha intorno ai 20 anni. Come si evince, la famiglia Stavik deve già affrontare un immenso dolore e immagino sia stato terribile, straziante perdere due figli o due fratelli così. I genitori di Mandy alla fine decidono di separarsi. Così, dopo aver vissuto ad Anchorage in Alaska, la madre Mary si allontana dal marito Glenn e si trasferisce ad Acme con i suoi tre figli, ovvero Lee, Molly e appunto Mandy. Qui, in un piccolo villaggio grazioso e tranquillo, la famiglia inizia la sua nuova vita e tutti i membri sembrano davvero apprezzare la località. Mandy si iscrive alla Mount Baker High School e diventa una studentessa d'onore. I suoi insegnanti l'adorano, poi è incredibilmente popolare. Si lascia coinvolgere in molte attività scolastiche, soprattutto sportive. È una ragazza atletica. Le piace andare a cavallo, giocare a softball e basket, correre in pista e fare la cheerleader. Inoltre fa parte anche della banda della scuola, in cui suona il clarinetto, il flauto e il sassofono. In aggiunta, Mandy conosce molto bene il linguaggio dei segni e sa parlare un po' di giapponese. È chiaro che è una ragazza intelligente e talentuosa. Secondo le parole di sua madre Mary, Mandy ha un carattere intraprendente, vuole fare tutto quello che lei è possibile. Chiunque conosce Mandy la adora, immagina che farà grandi cose nella sua vita, perché ha quel tipo di determinazione che porta a raggiungere qualsiasi obiettivo ci si prefissi. Mandy sogna di diventare una pilota di linea e dopo essersi diplomata al liceo nel 1989, si iscrive alla Central Washington University. Arriviamo al novembre del 1989, quando Mandy lascia momentaneamente il college e torna a casa, ad Acme, per passare la festa del ringraziamento con la sua famiglia. Il 24 novembre Mandy Stavik esce di casa con l'intenzione di fare una corsetta, come da sua abitudine, dato che è una ragazza atletica e sportiva. Quando è a casa Mandy fa spesso sport, anche insieme a sua madre Mary. Mandy corre mentre Mary va in bicicletta. Tuttavia, il 24 novembre Mandy non va a fare jogging con la mamma, bensì porta con sé il cane di famiglia, un pastore tedesco di nome Kira. Mandy e il suo cane escono intorno alle 14.30 e la ragazza si avvia lungo il solito tragitto che percorre quando va a correre ad Acme, attraversa Strand Road, fino a tornare nei pressi del fiume Noxac, nella via in cui abita. Ma in questa giornata accade qualcosa di sconcertante perché torna a casa soltanto Kira, il cane di famiglia, due ore dopo l'uscita. Ma quindi, dov'è finita Mandy? Sua madre Mary si agita molto e contatta subito il ragazzo di Mandy, che si chiama Rick, per chiedergli se la figlia sia con lui. Rick però le risponde di No, allora Mary chiama le amiche di Mandy, nella speranza che la figlia sia passata a trovare una di loro dimenticandosi di avvisarla. Purtroppo anche in questo caso Mary non ha fortuna perché nessuna amica ha notizie di Mandy. A questo punto Mary chiama la polizia e denuncia la scomparsa della figlia. Così l'indagine sulla scomparsa di Mandy Stavik ha inizio e la prima mossa della polizia è puntare la lente di ingrandimento proprio sul suo ragazzo, Rick. Sappiamo che i partner sono quasi sempre i primi soggetti su cui gli investigatori si concentrano quando qualcuno scompare o viene assassinato, ma in questo caso i detective appurano presto che Rick non è coinvolto nella sparizione di Mandy. Rick è collaborativo, inoltre lui e Mandy sembrano molto felici insieme. Non sono una coppia stabile, ma a 18 anni può capitare di lasciarsi e rimettersi insieme più volte. Dunque la polizia esclude Rick dalla lista dei sospettati e prosegue con le indagini. Intanto alle ricerche di Mandy si sono aggiunti anche dei volontari. Molte persone sul posto si sono offerte di aiutare la polizia. Di conseguenza la notizia della scomparsa si diffonde rapidamente. Inoltre la polizia riceve alcune informazioni da parte di un cittadino che afferma di aver visto Mandy mentre correva verso casa nel pomeriggio del 24 novembre. Quindi pare sia lui l'ultima persona ad averla avvistata. Il testimone afferma che si trovava all'interno del proprio camioncino parcheggiato a lato della Strand Road a meno di un miglio dall'abitazione di Mandy che lei stava appunto raggiungendo. Inoltre anche lì il fratello di Mandy è uno degli ultimi ad averla avvistata nel pomeriggio della sua scomparsa. Lì si trovava a casa di un amico che vive poco più in là di Strand Road e guardando fuori dalla finestra aveva visto sua sorella mentre correva verso casa. Quindi da entrambe le testimonianze si apprende che qualunque cosa fosse successa a Mandy era accaduta quando lei si trovava già nei pressi della propria abitazione. Questo significa che se avesse avuto un incidente inciampando o cadendo insomma facendosi male al punto da non riuscire più a camminare l'avrebbero facilmente ritrovata nei dintorni di casa. E infatti purtroppo tre giorni dopo il suo ultimo avvistamento Mandy Stavik viene individuata a circa 6 miglia di distanza dalla dimora della sua famiglia tragicamente senza vita. È il 27 novembre 1989 e la polizia sta effettuando delle ricerche lungo il fiume Nuxac quando il detective Ron Peterson che guida le indagini nota qualcosa di rosa che galleggia vicino alla riva mentre navigano su un gommone. Così si avvicinano e scoprono che quanto intravisto è il corpo di Mandy che giace nell'acqua bassa e il detective Peterson lo tira fuori con cautela. La vittima non indossa alcun indumento a parte i calzini e le scarpe da corsa e i suoi vestiti non vengono e non verranno mai ritrovati. Secondo una fonte il giorno precedente la scoperta del cadavere la squadra di ricerca e soccorso aveva rinvenuto sul ciglio della strada un paio di pantaloni da tuta verdi che parevano corrispondere proprio a quelli indossati da Mandy per andare a fare jogging il 24 novembre. Tuttavia la madre di Mary li aveva visionati concludendo che non appartenevano indubbiamente alla figlia. La donna aveva spiegato che siccome Mandy era una corritrice appassionata possedeva parecchi capi di questo tipo ma quelli trovati dalla polizia erano parecchio sporchi e addirittura bucati e sua figlia non avrebbe mai indossato dei pantaloni così marridotti. In realtà quei pantaloni potrebbero davvero essere di Mandy nell'ipotesi in cui fossero perfettamente integri quando lei era uscita ma poi forse si erano rovinati quando la ragazza aveva avuto una collutazione violenta con il suo aggressore. Per cercare di ottenere una risposta il capo è stato inviato al laboratorio ma il dubbio non viene ugualmente fugato perché non emergono delle valide tracce. L'autopsia eseguita sul corpo di Mandy invece stabilisce che la diciottenne era stata assassinata in modo orribile. La causa della morte è asfissia per annegamento. Il medico legale osserva che Mandy aveva subito una ferita alla parte superiore della testa quindi era stata colpita lì e di conseguenza aveva perso i sensi come indicherebbe anche l'assenza di segni di lotta sulla riva del fiume. Dunque l'aggressore l'aveva assalita e poi annegata mentre Mandy era ancora in uno stato di svenimento seguito dal trauma cranico. Oppure qualora lei si fosse ripresa dalla botta al capo l'assassino le aveva trattenuto la testa sott'acqua finché la ragazza non era morta. Siccome Mandy è stata trovata nuda la polizia ha presunto che fosse stata aggredita intimamente circostanza che viene confermata dall'autopsia. Si evidenziano infatti delle tracce di seme nel suo corpo ma purtroppo il dna maschile rilevato non fornisce una corrispondenza con quanto registrato nella banca dati della polizia. Comunque i detective ritengono che quel pomeriggio Mandy fosse stata aggredita da qualcuno che si trovava a bordo di un'auto. Siccome Mandy correva abitualmente era atletica e veloce quindi probabilmente sarebbe riuscita a seminare un malintenzionato se lui l'avesse inseguita a piedi. È più plausibile che l'assassino avesse accostato il proprio veicolo alla corritrice minacciandola con qualche arma. Si ritiene che l'autore del reato una volta sceso dalla vettura avesse preso a calci o spinto il cane di Mandy in un fosso costringendo la ragazza a salire in macchina. Così si era diretto verso il fiume Nuxac dove aveva molestato intimamente la sua vittima che però probabilmente aveva tentato di scappare. Questo lo proverebbero i numerosi graffi che durante l'autopsia sono stati osservati sulle braccia e sulle gambe di Mandy e che sembrano causati dal contatto con delle spine. Infatti sono presenti moltiplici rovi di more nella zona tra cui Mandy doveva essersi inoltrata per fuggire. Il colpevole però era riuscito a raggiungerla e l'aveva colpita alla testa per poi annegarla nelle acque poco profonde del fiume. In seguito alla scoperta del corpo di Mandy la notizia del suo omicidio si diffonde rapidamente. Come potete immaginare la comunità di Acme ne rimane scioccata anche perché questa giovane donna brillante era stata assassinata in pieno pomeriggio mentre stava correndo. L'intero villaggio è il lutto. Tutti gli abitanti sono devastati perché conoscevano e amavano Mandy. Il pubblico si attiva per fornire indizi, suggerimenti e ipotesi sul colpevole e la polizia approfondisce tutte le segnalazioni. Preleva il DNA da 30 uomini indicati dai cittadini di Acme per compararlo con le tracce di seme recuperate dalla vittima. Ma purtroppo, ancora una volta, la polizia non trova nessuna corrispondenza. I detective esaminano anche la possibilità che Mandy possa essere un'altra vittima del Green River Killer che al tempo non era ancora stato identificato e che operava a Washington. L'identità di questo serial è stata poi attribuita a Gary Ridgway. In ogni caso, la teoria presa in considerazione alla fine viene esclusa perché si stabilisce che Mandy non corrisponde perfettamente al profilo delle vittime selezionate dal Green River. Purtroppo, i detective non riescono a progredire con le indagini. È vero, hanno il DNA dell'assassino di Mandy, ma dobbiamo considerare che siamo alla fine degli anni Ottanta. La tecnologia genetica a disposizione consente di testare il DNA, di compararlo con quello dei potenziali sospettati, ma null'altro. Ad esempio, non è ancora possibile individuare dei potenziali parenti dell'assassino attraverso il suo DNA o prevedere quale aspetto potrebbe avere l'omicida attraverso la fenotipizzazione. Siccome anche i suggerimenti dei cittadini conducono a un vicolo cieco, purtroppo il caso di Mandy Stavik diventa irrisolto. Il tempo passa e, anno dopo anno, la madre di Mandy perde la speranza di scoprire chi avesse ucciso sua figlia. È ormai convinta che non otterrà mai giustizia per il suo omicidio. Ma, nonostante il caso si sia raffreddato, nessuno degli abitanti di Acme ha dimenticato la cruenta vicenda di Mary. Arriviamo al 2009, quando ricorre il ventesimo anniversario della morte di Mandy. Sono quindi trascorsi due decenni dal delitto ed è a questo punto che il caso viene riaperto. A prenderlo in carico è il detective Kevin Bowie, dell'ufficio dello sceriffo. Per svelare finalmente l'identità dell'assassino di Mandy, il detective intende stilare un elenco che comprenda tutti gli uomini che vivevano ad Acme al momento dell'omicidio. Vuole rintracciargli e chiedere a ognuno di loro di fornire volontariamente un campione di DNA per testarlo e compararlo con quello dell'autore del reato. Questo lavoro però richiede molto studio e tempo. Per identificare e localizzare tutti coloro che abitavano ad Acme vent'anni prima, potrebbero volerci altri anni. E in effetti il tempo riprende a scorrere lento, mentre la polizia convoca uno per uno i cittadini di interesse per le indagini e testa i loro campioni di DNA. Purtroppo uno dopo l'altro vengono tutti eliminati dalla lista dei sospettati, perché non emerge alcuna corrispondenza. La nuova squadra di detective inizia a temere che l'assassino di Mandy vivesse fuori dal villaggio, già all'epoca dell'omicidio, e che si trovasse in zona soltanto di passaggio. Insomma, la strada verso la risoluzione di questo caso sembra imboccare soltanto vicoli ciechi. Ogni pista, ogni indizio, ogni campione di DNA non porta a nulla, per ben quattro anni dalla riapertura delle indagini. Ma poi, nel 2013, 24 anni dopo la morte di Mandy, finalmente si registra uno sviluppo notevole, che arriva sotto forma di suggerimento da due fonti inaspettate. È una giornata soleggiata di giugno del 2013, e due madri che vivono nel villaggio, Heather Beckstrom e Mary Lee Anderson, si trovano entrambi in un parco acquatico con i loro figli. Heather e Mary Lee non si conoscono, ma per puro caso iniziano a chiacchierare mentre i loro bambini si divertono sullo scivolo. Tutte e due sono cresciute ad Acme e hanno frequentato la stessa scuola superiore di Mandy Stavik. Così si ritrovano a discutere dell'omicidio irrisolto della diciottenne, che tutta la comunità, come detto, ricorda con grande, enorme tristezza. Durante questa conversazione Heather dice a Mary Lee che ha dei sospetti sul colpevole e Mary Lee risponde prontamente Anche io penso di saperlo. Nonostante queste due donne non si conoscessero, entrambe hanno sempre avuto un particolare sentore sull'identità dell'individuo responsabile del brutale omicidio di Mandy. Per loro potrebbe essere un certo Timothy Bass. Anche lui era un ex studente della Mount Baker High School e adesso ha 46 anni, ma quando è avvenuto l'omicidio nel 1989 ne aveva 22, quindi era più grande di Mandy di 4 anni. Le due donne sono convinte che lui sia il colpevole perché avevano avuto un incontro inquietante con Timothy, una poco prima dell'omicidio di Mandy e l'altra un paio di anni dopo. Per quanto riguarda Heather, lei e Timothy si erano conosciuti alcuni mesi prima della morte di Mandy, avvenuta a novembre del 1989. Heather aveva 15 anni mentre Timothy ancora 21 ed era un buon amico del ragazzo che sarebbe poi diventato il marito di Heather, Dan. Una sera avevano assistito insieme a una partita di softball, poi al termine della gara con altri amici si erano avviati in macchina verso un ristorante di nome Diary Queen. Heather e Tim erano seduti l'una a fianco all'altro e lui aveva iniziato a tempestarla di complimenti dicendole che era bellissima, che aveva degli occhi splendidi. In seguito Tim aveva recuperato una penna dall'interno dell'auto e aveva iniziato a strofinarla sulle ginocchia e sulle gambe di Heather. Aveva soltanto 15 anni mentre Tim ne aveva 6 in più di lei. Insomma, questa esperienza le era rimasta impressa e da quel giorno aveva avvertito un brutto presentimento nei confronti di Timothy Bass. Per quanto riguarda Mary Lee, l'incontro con Timothy era stato molto, ma molto più terrificante e si era verificato due anni dopo l'omicidio di Mindy Stevick, nel 1991. Una sera mentre era a casa con suo figlio, che lei ha avuto da giovanissima, all'improvviso qualcuno aveva bussato alla porta di casa. Il visitatore sconosciuto era Timothy Bass, che gli aveva chiesto di poter entrare per usare il suo telefono. Siccome era stato fuori tutto il giorno, voleva fare una chiamata alla moglie. Infatti, all'epoca, Tim si era già sposato con una donna di nome Gina. Mary Lee aveva consentito la sua richiesta, permettendogli di accomodarsi in casa, ma il giovane aveva soltanto finto di usare il telefono, di parlare con la moglie, e Mary Lee se n'era accorta, per cui era andata nel panico. Che cosa voleva davvero quelle straneo da lei? Dopo aver rimesso il telefono al suo posto, Timothy aveva iniziato a vagare nella casa della ragazza. Si era diretta in cucina, poi nella camera da letto di Mary Lee. Infine, le aveva confessato di essere innamorato di lei, dicendo che passava spesso nei pressi della sua abitazione soltanto per vederla, perché voleva avere un rapporto intimo con lei. Un comportamento indubbiamente inquietante. Infatti, Mary Lee gli aveva chiesto di andarsene immediatamente, ma Timothy indugiava. Allora lei aveva minacciato di chiamare la polizia e solo allora lui si era convinto a uscire. Dunque, entrambe le donne avevano sperimentato delle sensazioni di disagio e di paura a contatto con quest'uomo, per cui avevano formulato la stessa ipotesi oscura su di lui. Tuttavia, né l'una né l'altra ne avevano mai fatto parola con qualcuno, non avevano mai comunicato alla polizia il loro presentimento negativo su Timothy Bass, legato a questi eventi spiacevoli. Ma perché? Sia Heather che Mary Lee spiegano che avevano taciuto i loro sospetti perché erano spaventate, perché puntare il dito verso qualcuno, incolpandolo di aver commesso un omicidio, non era una scelta da fare a cuor leggero. Inoltre, non avevano prove che potessero collegare Timothy alla morte di Mindy, ma solo delle sensazioni e ritenevano che fosse sciocco accusare qualcuno soltanto su queste basi. Nessuno le avrebbe mai prese sul serio. Eppure, ora, quasi due decenni e mezzo dopo, nel giugno 2013, le due donne si confrontano al parco acquatico. Si raccontano le rispettive brutte esperienze con Timothy Bass e cambiano idea. È soprattutto Mary Lee che arriva alla conclusione di andare dalla polizia. Certo, Timothy potrebbe essere innocente, ma è arrivato il momento di esprimere questi sospetti. Dunque, Mary Lee Anderson contatta un detective dell'ufficio dello sceriffo locale, che conosce dai tempi della scuola, e gli fornisce un suggerimento. Dovrebbero indagare su Timothy Bass riguardo all'omicidio di Mindy Stevick. Timothy Bass viveva ad Acme nel 1989, quando si era verificato questo caso. Era cresciuto lì e ha un fratello di nome Tom che era amico di Mindy. Tom e Mindy erano quasi coetanei e andavano d'accordo. La famiglia Bass era sempre stata rispettata e apprezzata dalla comunità locale. Per questo, sia Timothy che suo fratello Tom, che il loro padre, non erano mai stati considerati come delle persone di interesse nel caso di Mindy. Non erano nemmeno stati inclusi tra gli uomini da convocare per la richiesta di prelievo dei loro campioni di DNA durante l'indagine iniziale, perché la polizia non aveva motivo di pensare che uno di loro fosse coinvolto. Non avevano mai avuto problemi con la legge né esibito comportamenti insoliti. Da bambino, però, Timothy era un tipo solitario e suo fratello Tom lo descriveva come socialmente imbarazzante. Quando frequentava il liceo, Timothy aveva minacciato di suicidarsi perché la ragazza con cui usciva aveva deciso di lasciarlo. Era il telefono con lei nella sua camera da letto quando la ragazza gli aveva comunicato di voler concludere la loro relazione. Allora Tim gli aveva risposto che si sarebbe sparato per questo. Gli aveva davvero recuperato la pistola, la stringeva nella mano mentre lo diceva. Aveva persino sparato, ma non contro se stesso, bensì in aria, sempre durante la telefonata. Evidentemente voleva far credere alla ragazza che si fosse ammazzato e questo sì che è un comportamento problematico e contorto. Suo fratello Tom e altre persone che conoscono Tim affermano che dal giorno in cui questa ragazza l'aveva mollato, lui aveva sviluppato un forte odio verso le donne. Non nutriva più alcun rispetto per loro, sebbene lo attraessero. Allo stesso tempo, infatti, le ragazze lo disgustavano come se la sua ex fidanzata rappresentasse tutte le donne del pianeta. Lei aveva osato lasciarlo e lui si era talmente risentito nei suoi confronti da rivederla in ogni singola donna che incrociava. Ai suoi occhi, ormai, le donne simboleggiavano il sesso inferiore, ma questo non gli aveva impedito di sposare Gina, all'età di 22 anni, nel gennaio del 1990, circa un mese e mezzo dopo l'omicidio di Mandy. Tim e Gina hanno messo al mondo tre figli e sono rimasti insieme per quasi 30 anni. Tuttavia pare che la loro relazione fosse tutt'altro che felice, perché Timothy era un marito incredibilmente violento. Gina stessa racconta che Timothy la trattava come una schiava e non una moglie. Le abbaiava ordini in continuazione e lei doveva servirlo e riverirlo per poi essere comunque trattata in malo modo. Tim le diceva sempre di stare zitta, la controllava, stabiliva cosa lei poteva indossare e con chi poteva parlare. Gina rivela che quel matrimonio è stato simile a una prigionia. Si sentiva intrappolata in una vita fatta di abusi perpetrati dall'uomo che diceva di amarla. A un certo punto aveva trovato la forza di lasciare Timothy. Aveva anche tentato di emettere un ordine restrittivo contro suo marito. Poi, sotto la minaccia di Timothy, aveva deciso di lasciar perdere, altrimenti lui avrebbe fatto di tutto per farle perdere la custodia dei loro tre figli. Sarebbe stato anche disposto a portargliele via per non farglieli vedere mai più e Gina era terrorizzata all'idea di dover rinunciare alla cosa più preziosa che aveva. Quindi, in un certo senso, si era rassegnata a questo matrimonio orribile e abusivo. In ogni caso, quando la polizia viene a conoscenza dei sospetti delle due cittadine su Timbass, nel 2013 lui lavora come fattorino per una panetteria. Vive con la propria famiglia nella città di Everson, che si trova a poco meno di 20 miglia da Acme, sempre nella contea di Watcom, nello stato di Washington. Indagando più a fondo sull'uomo, la polizia scopre che però, al tempo dell'omicidio di Mandy, quando Timbass abitava ad Acme, la sua casa era situata sulla stessa strada di quella della vittima, a meno di due miglia di distanza dalla dimora della famiglia Stavik. Quindi Timothy viveva anche in prossimità del tragitto che Mandy percorreva di solito quando andava a correre. Eppure, nessun membro della famiglia Bass è mai stato considerato come un sospettato prima d'ora. Ma nel 2013 tutto sta per cambiare, a seguito della soffiata di Mary Lee ed Heather. Adesso i detective si dirigono a Everson per parlare con Timothy Bass, nel caso è risolto di Mandy Stavik. La reazione di Timothy stupisce fin da subito la polizia, in quanto l'uomo si comporta come se non sapesse nemmeno chi era la vittima, né che fosse stata uccisa. Gli investigatori non gli credono affatto, tutti coloro che in quel periodo vivevano ad Acme, e nelle zone circostanti, sapevano della tragedia. Tutti erano sotto shock e ne parlavano. Inoltre, come detto, Timothy viveva vicino alla casa di Mandy, per di più suo fratello Tom era amico della ragazza. Per la polizia, Tim mente per prendere il più possibile le distanze dal caso, perché ha la coscienza sporca. Dunque, i detective non si arrendono. Anzi, insistono nel fargli delle domande su Mandy, e Timothy sembra ricordare improvvisamente sia lei che il suo omicidio. La polizia quindi gli chiede se è disposto a fornire volontariamente un campione del proprio DNA, in modo da confrontarlo con quello raccolto anni priva dal cadavere della 18enne. Così, se lui non risulterà colpevole, potranno escluderlo dalle indagini. Timothy Bass, però, si rifiuta. Dice alla polizia che non è disposto a fornire un campione di DNA. E il motivo? Beh, dice sostanzialmente «Ho visto troppe persone che vanno in prigione dopo aver fornito il loro DNA». Sì, ma questo succede quando emerge una corrispondenza che attesta la colpevolezza del sospettato. Ma a Timothy conviene far credere che sia riluttante perché non si fida della polizia. La polizia, dal canto suo, non può costringerlo, non ha raccolto prove concrete che colleghino Timothy al crimine. Ma dopo questo incontro, lui finisce in cima all'elenco dei sospettati. Il suo comportamento appare davvero sospetto. Forse è proprio lui l'assassino che la polizia cerca da così tanto tempo. Ma come fare a provarlo? Senza il suo DNA non si può ottenere una prova schiacciante. Visto che non vuole consegnare un campione volontariamente, bisogna procurarselo con l'inganno. In segreto. Tanto per cominciare, la polizia mette Timothy sotto sorveglianza. Lo segue mentre lavora, dato che è un fattorino, e si occupa delle consegne della panetteria. I detective sperano, prima o poi, di coglierlo mentre butta qualcosa da cui ricavare il suo DNA, come un tovagliolo o delle pusate di plastica. Ma purtroppo, Timothy non lascia mai tracce. E la polizia si chiede se la sua astuzia sia frutto dei tanti programmi polizieschi che guarda. D'altronde, lui sa bene che la polizia vuole il suo DNA. Gliel'ha chiesto. Quindi, forse, Timothy ha la sensazione di essere tenuto sott'occhio e sta davvero attento a non buttare via nulla per questo. Anche quando si ferma per bere o mangiare qualcosa, poi si porta i rifiuti a casa per gettarli nel proprio cestino. E mai altrove. Per cui la sorveglianza non si rivela utile alle indagini. Tornando alle serie TV o trasmissioni poliziesche, Gina, la moglie di Timothy, afferma che durante il matrimonio lui era solito guardarle. E faceva sempre dei commenti sugli assassini, ospiti negli show, dicendo che erano stupidi. Lui, che invece era fin troppo intelligente, non si sarebbe mai e poi mai fatto beccare così. E questa sua dichiarazione mi sembra già parecchio significativa. Per cercare di ottenere il DNA del sospettato e scoprire più informazioni possibili su di lui, la polizia va a parlare con la titolare della panetteria per cui lavora, Kim Wagner. Cosa ne pensa di Lady Timothy? Kim spiega che l'ha sempre considerato un soggetto strano, che sa essere molto disponibile, tuttavia non la chiama mai per nome. Si riferisce a lei sempre appellandola donna. Kim afferma di non sapere mai con quale aspetto dominante della sua personalità, Tim si presenterà al lavoro. A volte è estremamente gentile, altre volte sembra che sia sul piede di guerra, pronto ad arrabbiarsi per la più piccola sciocchezza. Kim ignora che la polizia sta indagando sul suo dipendente in qualità di potenziale sospettato nell'omicidio risolto di Mandy Stavik. Così, quando la polizia prova a informarsi sui tragitti che percorre Timothy per effettuare le consegne, Kim e altri datori di lavoro si scusano, ma affermano che non possono fornire queste notizie riservate, in assenza di un mandato di comparazione emesso da un giudice. Siccome la polizia non possiede questo documento, l'indagine si arresta di nuovo e resta a un punto morto per un altro paio d'anni. Poi, un giorno nel 2017, Kim Wagner è fuori con suo marito e alcuni amici e stanno parlando dei dipendenti della panetteria, in particolare di Timothy Bass. Un'amica di Kim afferma che lui e la sua famiglia vivevano nella stessa via dove abitava Mandy Stavik quando era stata uccisa nel 1989. Così, un campanello d'allarme risuona nella mente di Kim, suggerendole che, forse, la polizia, anni prima, si era recata nella sua panetteria proprio per indagare su questo delitto. Kim doveva essere sospettato dell'omicidio di Mandy. Kim intende fare tutto il possibile per aiutare gli investigatori a scoprire la verità. Vuole collaborare a favore di Mandy e dei suoi familiari, che hanno trascorso tutti questi anni senza riuscire a ottenere giustizia. Dunque, Kim va dagli investigatori e si offre di diventare una loro informatrice. È pronta a osservare Timothy Bass al lavoro con molta attenzione e, se mai avesse individuato qualcosa da cui ricavare il suo DNA, lo avrebbe raccolto e consegnato alla polizia. Un giorno, proprio mentre è al lavoro, Timothy cestina una lattina di Coca-Cola, ormai vuota, e un bicchiere di plastica. Ha bevuto sia dalla lattina che dal bicchiere, quindi c'è indubbiamente la sua saliva su questi oggetti. Se Kim riesce a recuperarli, la polizia potrà ottenere il DNA di cui ha bisogno da anni. Kim riesce nell'intento e accorre alla polizia, che si prepara a eseguire i dovuti test. Finalmente emerge una corrispondenza. Il DNA di Tim, prelevato dalla lattina e dal bicchiere di plastica, corrisponde esattamente al profilo genetico dell'assassino di Mandy Stavik. I sospetti delle due cittadine e poi della polizia erano fondati. Timothy Bass è l'uomo che tutti stanno disperatamente cercando dal 1989. Così, nel dicembre del 2017, gli investigatori sopraggiungono sul posto di lavoro di Timothy Bass, nella panetteria, e lo arrestano perché è sospettato di rapimento, di violenza intima e dell'omicidio di Mandy Stavik. Non molto tempo dopo, Tim viene formalmente accusato e finalmente la polizia può riferire alla notizia che la famiglia Stavik aspettava pazientemente da più di 28 anni. Timothy Bass viene interrogato dagli investigatori sull'omicidio di Mandy, ma lui nega di essere il colpevole, il vero responsabile di questo crimine. Durante il suo procedimento penale continua a dichiararsi non colpevole, quindi deve attendere il processo, che ha inizio nella primavera del 2019. L'imputato, insieme alla sua squadra di difesa, ha preparato una spiegazione sul perché il proprio DNA fosse stato trovato all'interno del corpo senza vita di Mandy. Eppure, in un primo momento, Timothy, se ricordate, aveva detto alla polizia che neanche ricordava chi fosse Mandy Stavik. Quindi quale storia si sarà mai inventato? Ora Timothy afferma che lui e Mandy condividevano una relazione di natura intima che andava avanti da mesi prima della sua morte. Da prima erano diventati buoni amici nella primavera del 1989, ma poi si erano spinti oltre, pur non definendosi come una coppia, andavano a letto insieme, nonostante Mandy fosse già fidanzata con Rick. Anche il giorno in cui Mandy era stata uccisa poco prima di andare a correre, pensate un po', lei si era presentata a casa sua ed erano stati a letto insieme, ma che coincidenza! Ecco perché c'erano le tracce del DNA di Tim nel corpo di Mandy. La difesa convoca anche un'esperta forense, la dottoressa Elizabeth Johnson, la quale afferma che il seme trovato all'interno del corpo di Mandy, proveniente da Timothy, poteva essere stato depositato lì diverse ore prima della morte della diciattenne. Questo confermerebbe la storia dell'imputato, secondo cui loro due avevano avuto dei rapporti intimi consensuali prima dell'omicidio della ragazza. Ma anche l'accusa fa salire sul banco dei testimoni un proprio esperto, il medico che ha effettuato l'autopsia sul cadavere di Mandy, cioè Gary Goldfogel, che è pronto a screditare la versione della dottoressa Elizabeth Johnson. Il patologo afferma che il seme dell'imputato era stato depositato all'interno del corpo della vittima subito prima della sua morte. Quindi Mandy era stata aggredita intimamente e poi ammazzata subito dopo. Timothy Best aveva assunto un comportamento predatorio e compiuto un atto impulsivo di violenza alimentato da un desiderio di dominazione e controllo. Per l'accusa, dunque, Timothy e i suoi difensori stanno palesemente tentando di insabbiare la verità. Lui e Mandy non avevano condiviso alcuna relazione intima o fisica, come prova pure la reazione di dimenticanza manifestata da Tim di fronte alle domande della polizia sull'omicidio della ragazza. Inoltre, nessuno aveva mai visto Mandy e Timothy insieme e non sussistono tabulati a dimostrazione che i loro due avessero mai parlato al telefono. Insomma, nulla suggerisce che intrattenessero una relazione segreta. Piuttosto, l'accusa ritiene che Timothy Best si fosse fissato con Mandy. La vedeva spesso correre davanti a casa sua ed era attratto da lei. Aveva sviluppato un'autentica ossessione nei suoi confronti. Così, quel fatidico giorno del 24 novembre 1989, mentre lei faceva jogging, lui aveva deciso di rapirla e di molestarla intimamente. Forse aveva anche premeditato di ucciderla perché lei conosceva la sua identità, sapeva che era il fratello di Tom. Timothy temeva che, appena dopo l'aggressione, Mandy lo avrebbe denunciato alla polizia ed era disposto al peggio per impedirglielo. Pur di cavarsela, l'aveva fatta tacere per sempre. L'accusa chiama diverse persone a testimoniare contro Timothy durante il processo. Persino un paio di membri della sua famiglia e anche sua moglie Gina, ormai ex, si fanno avanti. Gina racconta alla corte tutti gli abiti che aveva subito per mano di Timothy Best durante il matrimonio. Ancora di più, Gina riferisce che, quando Timothy aveva capito di essere un potenziale sospettato nel delitto di Mandy, lo aveva udito mentre chiedeva aiuto a sua madre. Voleva che lei mentisse per lui, che fosse disposta ad accusare il proprio marito dell'omicidio di Mandy. Il padre di Timothy era ormai morto e non avrebbe nemmeno potuto difendersi. Probabilmente, sempre grazie a quei programmi polizieschi che Tim guardava affascinato, sapeva che il DNA di suo padre poteva risultare molto simile al suo. Quindi voleva puntare il dito contro di lui. Tuttavia, come riferisce Gina, la madre di Timothy si era rifiutata di infangare la memoria del defunto marito. Poi, tra i parenti di Tim, c'è pure suo fratello Tom, che testimonia contro di lui perché Timothy aveva chiesto anche a lui di mentire per proteggerlo. Nel 2015, mentre era già sotto indagine, Timothy aveva raccontato a Tom di aver avuto una relazione intima e segreta con Mandy. In base alle sue indicazioni, Tom avrebbe dovuto mentire alla polizia dicendo che anche lui era andato a letto con Mandy prima della sua morte. Attraverso questo piano, Timothy voleva trasmettere agli agenti l'idea che Mandy fosse una donna che si intratteneva con diversi ragazzi. E questo, secondo lui, avrebbe dato credito alla sua menzogna sulla relazione occasionale con lei. Per fortuna, anche Tom si era rifiutato di raccontare questa bugia. Inoltre, per quanto l'imputato lo neghi, Tom afferma che era presente anche lui quando Timothy aveva chiesto alla loro madre di mentire per tutelarlo. Voleva pure che lei gli fornisse un falso alibi per il pomeriggio in cui Mandy era stata uccisa. La donna avrebbe dovuto dire alla polizia che lei e il figlio stavano facendo shopping natalizio in quelle ore, affinché Timothy non venisse più considerato come un sospettato. Ma anche in questo caso, sua madre si era rifiutata di mentire, pur non avendo mai raccontato la verità alla polizia. Alla fine la giuria si ritira per deliberare e il 24 maggio 2019 torna con il verdetto. Dichiara Timothy Bass colpevole del rapimento, della violenza intima e dell'omicidio di Mandy Stavik, 29 anni e mezzo dopo il delitto. Dopo l'emissione della sentenza, Timothy si rivolge alla corte e continua a proclamarsi innocente. Afferma di non aver avuto un giusto processo, ma viene ugualmente condannato a 27 anni di prigione. Durante il lungo periodo in cui il caso era rimasto irrisolto, era stato previsto un premio dal valore di 25 mila dollari per coloro che avessero fornito delle informazioni utili a scoprire l'identità dell'assassino di Mandy. Dopo la risoluzione del caso, il denaro raccolto viene donato alla scuola superiore che frequentava Mandy, la Mount Baker High School, al fine di istituire un fondo per concedere delle borse di studio a nome di Mandy. E io penso che questo sia proprio un bel gesto. Si conclude così il caso di Mandy Stavik. Ci sono voluti quasi 30 anni affinché questa dolce e giovane ragazza ricevesse giustizia. Per tre dolorosi decenni i suoi cari hanno vissuto nell'agonia di ignorare l'identità del colpevole. Una condizione terribile, un'autentica tortura. Poi, grazie all'evoluzione della tecnologia, della genetica forense e una chiacchierata tra due donne, benedetta dal destino, sono stati mossi i primi passi verso la conquista della verità. Mi auguro soltanto che oggi Mandy, a cui la vita è stata ferocemente negata, possa almeno riposare in pace. E questo ci porta alla fine di questo video. Ovviamente sono molto curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni. Questi casi mi emozionano sempre moltissimo. È interessante vedere come gli agenti provano a ottenere il DNA dei sospettati. E soprattutto sono molto contenta che siano riusciti a fare giustizia. Perché 30 anni sono davvero un'infinità. E io credo che la famiglia di Mandy abbia sofferto tantissimo in questi anni. Quindi, in un certo senso, spero che anche loro riescano a trovare un briciolo, un briciolo di serenità. Detto questo, io vi invito a scrivere tutto quello che volete qui sotto nei commenti, dirmi che cosa ne pensate, conoscevate questo caso. Fatemi sapere, insomma, quali sono anche le vostre sensazioni e emozioni nei commenti. E nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti. Ciao a tutti.